ciao a tutti ragazzi e bentornati anche oggi qui nel canale oggi come vedete vi sto presentando il mio kit della dewalt cioè vi voglio illustrare il perché ho comprato questo kit ovviamente poi parleremo anche di infocosti e vi farò vedere anche tutti gli attrezzi singolo 1 a 1 partiamo dal presupposto ragazzi che questo kit l'ho comprato su amazon amazon presenta diversi kit questo qui è appunto un kit a parte questo questo qui è stato un regalo di natale che è stato acquistato prima di tutto quanto il kit quindi questo qui cioè lo smeriglio tenetelo al di fuori è la stessa serie che ora vi andrò a mostrare questo kit ragazzi lo sto utilizzando da più di un anno quindi regami ci avete visto fa veramente tanti tanti lavori qui al potere nella casetta sopra il pollaio dentro all'orto qualsiasi cosa dei lavori che servisse uno di questi attrezzi io l'ho utilizzato dentro al potere quindi potete immaginare che in un anno di test l'ho messo a dura prova come vedete le le scatole che ho fatto che le porto le riporto ogni volta non è che le lascio qui al potere ovviamente sennò farebbero magari una finaccia sono veramente maltrattate gli attrezzi ovviamente al momento sono sporchi ragazzi non mi sono messo a pulirli perché io l'ho usati e quindi è giusto che siano fatti vedere in modo che come appunto li ho sempre usati partiamo subito vuol dire che questa qui è la serie xr 18 volt quindi batterie ragazzi eccole qua belle potenti sono queste da 4 ampere ore ci sta anche la versione da 2 e da 5 ampere ore quella da 5 è ancora più grossa quindi magari se andate a utilizzare un trapano o questo qui a percussione diciamo che risulta un po scomodo perché inizia a pesare perché vedete già è abbastanza grossa la batteria di questo figuriamoci con una 5 ampere ore sarebbe ancora più grosso queste batterie hanno l'indicatore premendo qui ci sanno tre led che si accendono in base allo stato di carica e questo kit è venduto con tre batterie da 4 ampere ore partiamo subito col dire che che cosa vi danno insomma in questo kit vi danno due scatole voi direte ah beh che ce devo fare che scatole le scatole sono comodissime innanzitutto se mettete una sopra l'altro diventa un banchetto da lavoro ci potete tagliare ci potete avvitare ci potete fare un sacco di cose due ragazzi nelle scatole gli attrezzi si rovinano di meno prendono meno umidità le batterie sono al più fresco d'estate al più caldo diciamo d'inverno quindi sono protette le batterie ovviamente devono rispettare determinati parametri adesso sto all'aperto fanno 50 gradi però adesso ho finito qua rimetto tutto nelle borse e porto tutto in cantina a casa a roma quindi voglio dire non prenderanno chissà quanto freddo quindi anche questo le scatole sono molto utili poi raga ovviamente questa io l'ho lasciata così in colume insomma c'è sta dentro la vedete questa qua è tutta la gomma piuma dove ci vanno determinati attrezzi o qua ce ne tengo alcuni sempre fissi qua dentro alcuni sempre visti a quell'altro perché in base alla lavorazione che faccio qui al potere o a casa insomma da qualche parte prendo solo una delle valigie non me le porto ogni volta tutte e due è ovvio se devo fare un lavoro con legno mi porto determinati attrezzi piuttosto che altri viceversa se devo fare un lavoro ferro e quant'altro insomma in base al lavoro scelgo anche la mia scatola ovvio dire anche che i kit sono comprensivi che questi qua si possono mettere una sull'altro ok vedete si incastrano e poi qua laterali eccolo qua ci stanno queste vedete queste alette che si chiudono e si vanno a mettere appunto così guardate lo faccio vedere in diretta e si attaccano fisicamente le due scatole ok io adesso le ristacco per problemi di logistica insomma e quindi una volta impilate e agganciate tra loro risulta ragazzi un vero e proprio piano di lavoro ecco l'utilità di queste scatole poi partiamo anche col dire gli altri attrezzi vediamoli tutti insieme trimis classico trapano elettrico avvitatore questo è un trapano brushless anche questo qua vuol dire senza spassole ragazzi perdonatemi la mia pronuncia in inglese non la so bene comunque ha il mandrino in acciaio la batteria ovviamente neanche a dirlo regà si mette su tutti i nostri dispositivi quindi questo qua è un trapano appunto avvitatore di qua ci stanno le specifiche quindi neanche a dire che uno deve andare a prendere un libretto informativo illustrativo e quant'altro cioè leggete qua 18 volt la misura massima di ingresso qui nel mandrino è da 13 mm e poi vi dice quanti giri fa al minuto questo qua è fino a 2000 giri al minuto made in germania made in germania si questo quindi è tedesco questo appunto è il mio avvitatore elettrico quindi può fare anche da piccolo martello pneumatico perché qua sopra c'ha 13 13 frizioni c'è 13 modalità di frizione e poi avvitatore e avvitatore a percussione quindi se dovete fare i buchi sul cemento armato lo potete fare ce li ho fatti però visto che il kit comprende altro vi dico aspettate a fare i buchi sul cemento armato con questo poi passiamo a quest'altro questo io ci appoggio sempre questo ragazzi è un piccolo kit della dewalt che potete acquistare su amazon questo costa 20 euro circa e questo serve vedete è un po più telescopico se avete delle viti in particolare da andare avvitare quindi questo qui non fa parte del kit ma lo potete comprare a parte quindi questo qui è il mio invece avvitatore a impulsi che quando appunto la frizione sente che sta sforzando troppo inizia a martellare su un albero qui fatto quasi a t a croce e quindi continua a far girare l'albero in modo tale da continuare ad avvitare come tutti gli attrezzi di lato alle specifiche quindi questo qua lo chiama n0 ma so i battiti insomma al al minuto insomma fa 1000 2008 3250 che vuol dire questo che in base qui c'è sta una levetta 1 2 e 3 in base a quella che mettete io la tengo sempre su due perché non ho grandi grandi insomma cose da avvitare viti così grosse c'ho delle viti normali e le avvito insomma dove mi serve quindi in base all'impostazione che gli date lui fa più o meno battiti su questo albero al minuto credo sia non lo so comunque anche questo qua è madre germania e quant'altro ovviamente pure questo qua c'ha sempre le stesse batterie ma non lo dirò più successivamente ragazzi passo da quest'altra parte c'è sta questa qui ragazzi questa è la sega circolare allora la sega circolare è un nì cioè nel senso è molto pratica perché è leggera farà un paio di chili fa 5000 qua dietro le stanno le specifiche fa 5150 giri al minuto quindi è abbastanza potente e paragonabile a un banco sega quindi rega i banchi sega stanno intorno ai 2008 3500 giri e quelli là hobbistici ovviamente quelli professionali magari salgono quindi ha un bel numero di giri la potenza è dei 760 watt quindi qua è un po' un controsenso perché gli diamo tanti giri ma poca potenza però tutto sommato ragazzi per quanto riguarda tagli in verticale orizzontale controvena lungovena per quanto riguarda i vari spessori fino a questo spessore qua credo siano sono quattro centimetri e mezzo cinque di questa lama taglia abbastanza bene ovviamente dipende dalla carica della batteria perché se la batteria è un po' scarica noiava ve lo dico poi si incastra la lama perché ovviamente non c'ha la forza sufficiente per continuare a tagliare specie se facciamo diversi spessori importanti insomma per azionarla bisogna utilizzare una di queste due levette quindi abbassarle e poi premere il grilletto sottostante e andare questa cosa appoggia e si spinge ovviamente alle varie inclinazioni sia per quanto riguarda l'angolazione di taglio quindi a 90 gradi oppure meno sia credo anche per l'altezza ma non l'ho mai provata perché l'ho sempre ah si eccola qua c'è quest'altra leva che appunto sganciandola si riesce a regolare l'altezza questa ragazzi è veramente pratica se ogni tanto fate lavori con legno però parlo di carpenteria non di finitura e tipo da togliare gli stelli e poi avvidarli vi portate a sega e vi portate il travano a percussione avete fatto due attrezzi ve li legate qua questo qua c'è pure l'apposito aggancio per essere messo qui alla cinta così eccolo se regge da solo non va da nessuna parte quella magari ha dovuto in mano però e con due attrezzi riuscite a effettuare un sacco già di lavorazioni ma a me non mi bastava io volevo qualcosa in più cioè già solamente l'avvitatore elettrico per effettuare il preforo prima di mettere la vite con quest'altro quindi volevo già questi tre elementi poi cosa ho pensato beh a me serve un altro elemento un elemento come questo questo qui è il classico seghetto alternativo chi la chiama scintilla chi la chiama seghetto alternativo insomma c'ha vari nomi però è quello lì che ha qui una lama che esce da qui e noi possiamo utilizzare per fare quei ritagli insomma magari fatti in questa maniera tipo piccole riseghe dei nostri profilati e quant'altro in modo da adattarli bene alle superfici che andiamo a fare stesso discorso qua c'ha tre a tre modalità modalità mobile modalità invece immobile modalità invece che può andare indietro quindi può andare avanti indietro oppure ferma queste sono le tre modalità andiamo a leggere le specifiche insieme 400 watt di potenza quindi anche questo è abbastanza potente 3000 giri quindi ragazzi lavora poi è pratico ragazzi perché a questa levetta qui per l'espulsione della lama ovviamente anche questo è corredato di inclinazione o allungamento della suola per un appoggio migliore in più qui dietro a questo che si infila qui dietro per mettere l'aspiravolvere o aspiratrucioli è molto comodo ragazzi se avete anche un aspiravolvere perché non vi riempite tutti quanti di segature e quant'altro quindi anche questo ragazzi mi serviva appunto per fare alcuni tipi di lavorazione anche perché qualche lavoretto con legno vorrei iniziare tra un po' a farli quando riuscivo a impostare una piccola officina ma questo è uno spoiler e quindi questi attrezzi ragazzi mi servono in più davano ragazzi questa nel kit che è appunto la luce che avete visto prima e non è che ha specifiche però ci mettete la batteria la appoggiate potete inclinarla così potete appenderla comoda devo dire comoda però insomma è una semplice luce niente perché questa pei cantieri quando vedete pei cantieri manco pei cantieri perché la potete utilizzare soltanto se dovete attaccare un paio di video e appena calato il sole poi dopo serve in faro ultimo non ultimo questo questo qua il martello demolitore martello demolitore tassellatore e martello pneumatico questo ragazzi serviva anche questo piccolino e a batteria ce n'è un altro che è un po più grosso ed è di un'altra marca ed è al filo perché lo volevo comprare anche quello di questa marca ma costava un po troppo e quindi ho deciso di utilizzare un altro insomma modello di un'altra marca però questo qui è molto pratico ragazzi è compatissimo vedete sempre con la stessa batteria eccola qua funziona benissimo qua c'è il selettore adesso impostato su un martello pneumatico posso impostarlo su aspetta intanto svito questa e la giriamo così posso impostarla sia su un martello pneumatico sia premendo l'apposito tastino qua e girando martello pneumatico e avvitatore insomma come quella funzione di questo solamente che questo è un po più potente oppure in giù soltanto perforare queste tre appunto funzioni fanno sì che questo mi aiuta a fare lavori un po più pesanti rispetto a questo perché se ci pensate fa le stesse tre lavorazioni rispetto a questo solamente che quando si mette il martello demolitore c'è il mandrino che fa solo su e giù e vibra quindi fa solo martello demolitore mentre se si fa martello e vide fa avvitatore a percussione e quindi si riesce a bucare tranquillamente il cemento armato con questo regalo ho provato state proprio tranquilli e comunque sia peso è tutto determinato dalla batteria ve lo posso assicurare perché con o senza batteria il peso cambia molto ma molto più leggero rispetto a tanti martelli pneumatici o demolitori o tassellatori più pesanti più grandi questo ragazzi come tutti quanti come vedete qui ha una lucetta tutti quanti gli attrezzi a parte lo smeriglio e a parte la sega circolare hanno l'illuminazione quindi l'illuminazione va in base a dove state lavorando se questo qua ha la punta e vado a lavorare qui la luce punterà più o meno qui e riuscite a vedere che cosa sta da buca che cosa sta da fare molto molto pratico ragazzi perché non sembra ma tante volte state in penombra e non sapete bene come andrà a buca e questo vi salva perché se no andate un po storti se no insomma non vedete bene dimenticavo ragazzi per la sega c'è anche questa che è una piccola guida che appunto vi serve bloccandola qua dietro con la sua apposita vite vi serve per seguire una certa distanza e fare i tagli in maniera prolungata ma soprattutto perpendicolare quindi creare andare a sfilare appunto dei pezzi magari di grandi tavole molto pratica questa perché tante volte noi a mano libera andiamo un po storti quindi con quella la riusciamo sicuramente andare un po più dritti quindi ragazzi il mio kit comprensivo di questo oh raga mi sto mancate questo bene questo qui lo smeriglio non era compreso nel kit che vuol dire questo mi è stato regalato a natale prima che io acquistassi tutto quanto il kit io avevo questo qua per questo non c'ho le batterie perché questo qua lo vendono esclusivamente senza batterie allora ho iniziato a cercare le batterie e mi sono imbattuto in questi kit e da lì l'ho acquistato acquistato questo kit quindi senza questo che però nell'insieme ho effettuato appunto un acquisto in grado da permettermi di realizzare molti molti lavori regà veramente versatile questo kit c'è se qualsiasi cosa mi manca solamente due sempre a batteria me ne mancano soltanto due di attrezzi per concludere il mio kit ideale che a breve appunto comprerò ma visto che sono costosi e uno di questi è esclusivamente per la lavorazione del legno sto aspettando appunto per comprarli quindi non ne ho un effettivo bisogno però diciamo che a breve comprerò anche questi come ho detto questo kit ragazzi viene tutto alimentato da batterie e da questo qui questo qui è ovviamente il caricabatterie con una presa 10 16 queste qua normali che adesso vi mostro eccola qua senza ragazzi la temutissima presa siemens è scomodissima a una 10 16 così molto semplice questo riesce a caricare sia le batterie queste qua della serie xr da 18 volt sia la serie basic da 10.8 niente ragazzi questi attrezzi sono stati acquistati su amazon amazon vende diversi kit li vende anche di diverse marche ci sta questo ce ne sono altre marche insomma dipende poi base alla marca andate anche a cambiare il prezzo io ho acquistato questo perché mi piace questa marca mi piace come lavora questa marca le ho vissi quindi ce ne sono insomma quindi ragazzi per me è stato appunto una scelta in base a diversi parametri prima di tutto regalo e batterie ma ormai le batterie le fanno un po tutte le marche tutte le marche fanno queste batterie che si mettono su ogni dispositivo però in base anche a tante recensioni che si vanno a leggere anche qui su youtube anche su sullo stesso amazon quando compra la gente e questi attrezzi sono parecchi utilizzati questi della marca dewalt dalla serie 18 volt molto comodi regà continuo a dirlo molto comodi sarò martellante ma è la verità invece sono veramente trovato bene qualsiasi sia il lavoro da fare non mi hanno mai abbandonato diciamo sì è un kit nuovo però devo dire che vale la pena spendeci i soldi se li usate ovviamente ragazzi perché se magari usate il frullino una volta ogni sei anni vi dico compratevi quello la che costa 12 euro col filo fate in taglio e fine io col frullino ci lavoro spesso qua soprattutto al potere taglia un pezzo di ferro taglia quell'altro cioè me è utile scarta vetra e quant'altro sia stesso per il martello del monitore perché devo fa magari dei buchi qua dove quando ho fatto il bagno ho dovuto fare i buchi quindi l'ho utilizzato anche qua regà a me si attrezzi servono per tutte le lavorazioni che appunto devo fare qui al potere e anche a casa poi qualche lavoretto extra che mi capita anche quelli appunto ragazzi come dicevo è stato acquistato con amazon il prezzo è variabile vi dico così perché io l'ho acquistato col finanziamento cofidis quello la di amazon questo finanziamento questa finanziaria è molto pratica perché io l'ho impostata soltanto una volta con le mie generalità e buste paga e quant'altro una volta impostata non mi chiede più niente mi chiede solamente vuoi acquistare vuoi acquistare con pagamento rateizzato io scelgo in questo caso ho scelto di fare il pagamento rateizzato non mi ha richiesto alcuna firma ragazzi quindi praticissimo la compra come se state comprando tranquillamente che ne so qualsiasi cosa solamente che c'è scritto pagamento rateizzato io clicco la e in base alle rate che vado a scegliere ovviamente sale un po il tasso ho fatto una rateizzazione del mio kit a parte questo che come dicevo è un regalo quindi è fuori dal kit di 980 euro il kit in totale che comprende 1 2 3 4 5 una torcia quindi 6 attrezzi più tre batterie da 4 am per ore che sono costose vi dico costano intorno ai 100 euro l'una più il caricabatterie e due valigie è costato 980 euro allora ragazzi se prendiamo ogni pezzo a sé vi posso dire tranquillamente che credo che era questo qui questo qui costa intorno ai 150 euro le batterie costano intorno ai 100 euro per tre sono 300 euro solo di batterie ragazzi se le togliamo a 980 euro fate un po voi conti cioè è convenuto comprare un kit del genere secondo me per quello che ci devo fare io sì ovviamente la decisione di spendere 980 euro va ponderata io ci ho messo all'incirca due anni per prenderla questa decisione perché comunque sia 980 euro so parecchi soldi io ragazzi mi sono sentito di acquistarlo li uso tutti i giorni da due anni e veramente li li maltrazzo perché poi sono sono abbastanza grezzo io su queste su questi attrezzi quindi ragazzi vi posso dire che il kit merita merita ed è molto molto utile perché non avete fili in mezzo li potete caricare tranquillamente con la presa oppure se vi volete inventare con un pannellino solare la batteria di accumulo un piccolo inverter ve lo carica pure praticamente a gratis quindi ragazzi di che stiamo a parlare niente ragazzi il video termina qui io ho utilizzato questo video anche per farvi vedere come regista il mio microfono il kit ragazzi continuerò a utilizzarlo lo vedrete in altri video quindi io spero che il video vi sia piaciuto vi invito sempre a iscrivervi al canale e anche al canale instagram daniele faccio cose dove potete vedere le anteprime dei miei lavori un saluto a tutti alla prossima ragazzi ciao ciao